Dal Vangelo secondo Matteo, in quel tempo i farisei, udito che Gesù aveva chiuso la bucca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Gli rispose, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti e il secondo è simile al primo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti. Grazie a tutti.